Figlie mie, siate delle fottute egoiste. Pretendete ciò che è vostro. La maternità non è una missione, il matrimonio neppure. La vostra esistenza, sì. Benvenuti al Nablu Podcast, un podcast gentilmente offerto da Nablu che ci dà lo spazio per parlare di tutto quello che vogliamo come appunto possiamo fare sul Nablu che è una piattaforma un po' piccantina dove possiamo postare tutti i video che ci piacciono di più e che piacciono di più anche a chi ci segue. Oggi siamo qui per parlare qualcosa di definitivamente, decisamente fuori dagli schemi che è lo squirt e siamo qui con Maura Gigliotti. Buonasera. Ciao Maura. Noi vogliamo conoscerti meglio, vogliamo approfondire il tuo personaggio e la tua persona quindi voglio che ti racconti chi sei, chi è Maura? Beh, è abbastanza complicato. Io direi che inizierei da una citazione in cui Barba Sofia mi definiva la rock star dello squirting perché proprio mi si addice, sono la Loredana Bertè dello squirting. Meraviglioso, adoro. In realtà diciamo che vengo da un percorso abbastanza lungo e difficile e in questo percorso per mia fortuna ho incontrato lo squirting e ho iniziato a navigare nel mare dello squirting quindi cercando di capire qualcosa per non affogare fondamentalmente o affogare gli altri. Nel tuo percorso c'è anche un percorso da avvocato. Assolutamente pentita di averlo fatto. Come mai? Beh, a 18 anni ti trovi a dover fare delle scelte e avere proprio una consapevolezza proprio un poco chiara delle scelte, di quello che vorrai essere da grande. Ci vorrebbe maggiore consapevolezza rispetto alle scelte della vita e molto spesso le donne, gli uomini, i ragazzini si trovano in fronte a scelte troppo grandi. Quella è stata una scelta che mi ha dato un modo di approfondire delle cose che ho poi lasciato per dedicarmi a qualcosa di molto più interessante, secondo me. Decisamente più interessante, sicuramente più interessante. Decisamente più interessante. Parlavi di appunto giovine età, quando eri più piccola. Cosa ti sarebbe piaciuto fare da piccola e c'entra qualcosa in quello che fai oggi? Da piccola volevo fare l'astronauta. L'astronauta? Però in qualche maniera poi questo viaggio cosmico è iniziato, però invece di andare verso l'esterno, quindi verso lo spazio, verso l'universo, è stato un viaggio che ho fatto all'interno di me e all'interno delle donne e all'interno della vagina delle donne, che è un viaggio assolutamente, ecco, spaziale direi che è il termine esatto. Se usata nel modo giusto. Se usata e soprattutto se conosciuta nella maniera corretta, che è ancora più importante. Prima di usarla bisogna conoscerla. Qual è il modo giusto di conoscersi e di conoscere la vagina in generale? Innanzitutto guardarla. Pensa un po' agli uomini, no? Gli uomini hanno questa grande fortuna, alcune volte non è proprio una fortuna di averlo lì. Se lo guardano, se lo vedono tutti i giorni, che qualche volta, insomma, si capisce anche tante cose degli uomini rispetto al rapporto che hanno con il loro pene. La donna no. La donna se non la va a cercare, non se la vede. E quindi la donna la immagina. Il più delle volte l'immaginazione non è conforme a quello che in realtà è la vagina. La vagina è un pianeta, ogni vagina è diversa. E bisognerebbe incentivare le ragazze a cercarla, a guardarla, a capire anche come guardarla, perché chiaramente devi avere degli strumenti appositi per poterlo osservare, per poterlo osservarsi. E scoprirebbero molte cose divertenti su se stesse. Mi piace questa visione del mondo e della vagina in particolare. Diciamo, il tuo campo è quello dello squirting. Un campo liquido. Un campo di squirting. Come ti sei approcciata a questa pratica? Quando l'hai scoperto? Perché hai scelto, diciamo, di renderlo un tema così importante? Diciamo che tutto parte da una diagnosi di incontinenza. La maggior parte delle ragazze che squirtano si trovano a vivere questa esperienza molto spesso con imbarazzo, addirittura con vergogna. Perché si sa molto poco, quello che si sa è anche sbagliato. E molto spesso anche la reazione del partner o della partner è una reazione particolare, proprio perché non si capisce bene di fronte a che cosa ci si trovi. E quindi se poi ci si rivolge ai medici il più delle volte, la diagnosi sarà quella di un'incontinenza. E non lo è affatto un'incontinenza perché lo squirting si manifesta in un momento che è legato comunque al piacere. Quindi non perché tossisco o sternutisco, ma in un momento particolare la donna a un certo punto avverte l'esigenza o sente un bisogno che è simile al bisogno di urinare, ma in quel caso non ha nulla a che vedere con l'urina, ma con qualcosa di profondamente diverso. Tu come l'hai scoperto? Ciao, ti sto interrompendo per pochissimi secondi per sapere se ti sta piacendo la puntata. Fammelo sapere nei commenti e iscriviti al canale. Questi contenuti sono disponibili grazie a Nablu.com, che ci permette di parlare di argomenti tabù in uno spazio, senza pregiudizi. Se ancora non sai cos'è Nablu, te lo spiego. È una piattaforma dove i tuoi content creator preferiti postano contenuti un po' piccanti, sia foto che video. Se invece sei tu stesso un creator di contenuti piccanti, beh, cosa aspetti? Iscriviti alla piattaforma e carica tutti i contenuti che vuoi per cominciare a guadagnare subito. Trovi tutti i link in descrizione, ma adesso torniamo alla puntata. Io l'ho scoperto perché a un'età abbastanza, diciamo, tra virgolette adulta, avevo circa 38 anni, ho cominciato a fare quelli che venivano definiti laghetti. Sempre in situazioni particolari di piacere, cominciava ad uscirmi dell'acqua dalla vagina. Io ne sapevo poco, la persona che stava con me ne sapeva meno. Anche meno? Internet, non ne sapevo un c***o, per cui all'inizio l'unico riferimento poteva essere il porno, come lo è tuttora. Il libretto di istruzione per certe informazioni è in realtà il porno. Per cui mi affidai al mondo scientifico, dal mondo scientifico scopri appunto di essere incontinente, bennicurata per questa incontinenza, salvo poi decidere di informarmi da sola e cominciare a cercare di capire cosa mi succedeva. e attraverso poi questa ricerca ho scoperto tante cose. La prima cosa che ho scoperto è che appunto è un liquido particolare, è un liquido che non c'entra con l'urina ed è un liquido legato al piacere della femmina. Spesso appunto, come dicevi, è ricollegato all'urina. Come si fa a dire che non è pipì? Beh, innanzitutto ci sono delle cose molto curiose che una persona può fare nel dedicarsi alla scoperta del pianeta squirting. La prima cosa è usare il naso. Quando si odora dell'urina, l'odore che si sente è preciso. L'odore di squirting è un odore completamente diverso, ha qualcosa a che fare con il muschio, in qualche maniera, un odore del dolciastro. E anche il sapore in realtà è completamente diverso. Tra l'altro, quando una donna squirta sul lenzuolo, sul letto, dove ovunque essa abbia benedetto, attraverso il liquido delle sue gambe, l'oggetto su cui sedeva, non rimane traccia, rimane l'odore. Mentre dell'urina rimane una traccia, rimane solitamente una chiazza. Nel caso dello squirting non rimane nessuna traccia, se non questo odore persistente. Ma un ulteriore esperimento che le donne possono fare per convincersi di non urinare è mangiare la barbabietola rossa. La barbabietola rossa tinge di rosso l'urina, non tinge di rosso lo squirting. o anche gli asparagi. Quindi ci sono una serie di escamotage. Di prove, tentativi. Esatto, esatto. Voglio dire, sperimentiamo, no? La scienza nasce così da sperimenti. Allora, invito tutte a essere scienziate di se stesse e a cercare di capire che cosa è lo squirting e che cosa non è. Il segnale è univoco, cioè a un certo punto la donna sentirà il bisogno di urinare e lì nasce la confusione. Capisco. Quindi non è pipì. Non è pipì. Il problema nel caso dello squirting è che fuoriesce dall'uretra. L'uretra è il canale deputato alla fuoriuscita della pipì. Quindi voglio dire, il canale è lo stesso, il liquido in teoria si dice che sia lo stesso. In realtà anche lo sperma maschile esce dall'uretra, ma nessuno dirà mai che sperma e urina sono la stessa cosa. Bene, questo discorso non vale per le donne. Il canale è lo stesso, il liquido deve essere lo stesso. Per le donne c'è sempre un trattamento speciale, diciamo, storicamente. è sempre stata trattata in modo diverso. Esatto, ed è un discorso proprio storico, culturale, legato proprio al modo in cui la donna è stata considerata e la donna ha bisogno proprio in questo senso di camminare, di riprendere in mano se stessa e ovviamente la propria vagina. Mi facevi vedere prima un libro a proposito di storia e storicamente. Questo testo? Sì, che insomma sono cose abbastanza indietro nel tempo e mi dicevi che in diversi posti nel mondo la vagina entra anche nella chiesa cattolica. Beh, innanzitutto bisognerebbe chiedersi perché quando io entro in chiesa la prima cosa che vedo è l'acqua santiera. L'acqua santiera è quasi sempre la forma di una conchiglia. Simbolicamente la conchiglia rappresenta l'organo genitale femminile. Guarda un po', l'acqua sacra va collocata all'interno della conchiglia. Anche sull'immagine insomma della Madonna si potrebbe parlare tanto proprio perché anticamente la grande madre, la divinità femminile aveva proprio la forma di una vagina ed esistono queste statuette, si chiamano le Shira Naguig o le Belle Baobu che sono delle statue che troviamo all'interno delle chiese sono delle statue che mostrano in maniera anche orgogliosa la vagina attraverso un gesto che è chiamato l'anassiromai cioè l'esposizione dei genitali. Anticamente si riteneva che la donna che esponeva i genitali fosse in grado di scacciare i demoni, di calmare il mare perché aveva un valore apotropaico, aveva un valore simbolico molto importante l'esposizione dei genitali femminili. Adesso li copriamo, li nascondiamo, li chiudiamo prima la vagina aveva ben altro significato. E secondo te come mai è cambiato questo valore nel tempo? Beh essenzialmente è un discorso culturale le donne sono le prime a non voler sapere, a non avere coscienza ma semplicemente perché nel momento in cui io sono cosciente di me devo essere anche responsabile delle scelte che faccio allora se io tengo basso il mio livello di coscienza posso permettermi di dire no, posso permettermi di non scegliere nel momento in cui io so quanto valgo a determinate situazioni io dico no. Tutti i discorsi di consapevolezza e di coscienza soprattutto del corpo diciamo che sono impegnativi e molto spesso si preferisce non impegnarsi perché spesso non si può. È sempre una matrice di origine culturale che muove la consapevolezza corporea. Poi quando parliamo dei genitali aiuto. Pensa a una suggestione no, anche l'uso del termine genitali no. Cioè organi per generare. In realtà questi organi quanto potranno generare? Un figlio, due figli, dieci figli? Se siamo ecuba 100 aiuto. Sì, ecco. Quindi la funzione principale di questi organi in realtà non è la riproduzione. La funzione fondamentale è il piacere. Però del piacere non si parla. No. Si parla della riproduzione. Ecco sulla femmina si è giocato tutto questo. La femmina era oggetto di riproduzione, non soggetto di piacere. È una cosa molto piccola ma anche molto importante. Sottile ma importante. Esatto. Quindi riprendetevi le vostre vagine e il vostro piacere sostanzialmente. Siamo sui canali giusti per diffondere questo messaggio. Ce l'abbiamo i canali giusti tutti. Esatto. Qui in particolare. Allora io vedo tanti gadget qua sulla scrivania per chi non ci stesse guardando. Ci sono veramente un sacco di cose qua davanti. Prendine una, scegli tu. Beh sicuramente questa. Ok. Che sembra una teiera. Questa è una squirtiera. Ok. L'ho creata appositamente ieri. Sì? Perché l'idea è che in realtà se tu usi questo liquido, liquido che peraltro aveva una valenza sacra, anticamente si riteneva che l'uomo che fosse bagnato da questo liquido avesse la possibilità anche di avere un'erezione maggiore, proprio perché era qualcosa di magico. Adesso viene considerata urina, anticamente aveva ben altro valore. Allora la mia idea era appunto tra amiche o in una serata particolare col partner, attraverso questa bellissima copritaiera che ha le grandi labbra, le piccole labbra e uomini, guardate qui, la clitoride si trova esattamente qui perché c'è un gran problema geografico di collocazione della clitoride. Della clitoride. A capire che quando la tocchi non devi usare le dita come il bimbi, il frullatore, ma essere molto più delicato perché questo favoloso bottoncino è responsabile di cose come ad esempio queste. Quindi abbiamo la squirtiera che in qualche maniera può essere un gioco divertente per appunto assaggiare questo liquido, anche perché per anni ce l'hanno menata con lo sperma, adesso magari si assaggiano loro, si fanno anche un'idea e una percezione diversa, direi che ora. Potrebbe essere un bel gioco, ma anche uno gioco. Io brufoli non ne ho, però adesso è meglio che si ritornano loro i brufoli, no? Beh giusto, se si dicono appunto del potere afrodisiaco dello sperma in realtà perché no con lo squirt, assolutamente. Esattamente. Ok, mi piace questa squirtiera. Potremmo prenderci un tè insieme qualche volta. Io sono molto fan dei tea party, dei tea party, ne organizzo anche a casa mia, quindi potrebbe essere un'ottima idea la squirtiera. Tra l'altro ognuno col suo, quindi ognuno col suo squirting che ha un sapore, un colore diverso, si potrebbe, voglio dire, in questo senso si aprirebbero veramente le frontiere, l'immaginazione e si aprirebbero anche le vagine, grazie a Dio. Sarebbe il caso, sarebbe l'ora, sarebbe il momento storico e culturale per farlo. Io prenderei un altro gadget, ne vedo tanti. Beh sicuramente è molto interessante lei. Lei è, beh la conoscete tutti, Wonder Woman. Sì, abbiamo una bambola. Lei nasce perché a un certo punto avevo bisogno di spiegare a delle signore un po' agee, io appartengo appunto a quella generazione, cos'era lo squirting, ed era molto complicato, no? Cercare di spiegarglielo con i disegnini, non riuscivo. A un certo punto ho detto, vabbè, voglio la bambola che squirta e ho ordinato Wonder Woman perché è strong, power, potere proprio femminile incarnato e poi ho scoperto che Wonder Woman le gambe non le apre. Quindi non c'era possibilità alcuna di farla squirtare, per cui ho detto, vabbè, dovrà fare un corso probabilmente di yoga, anche di riabilitazione del pavimento pelvico e quindi sono andata al supermercato alla ricerca di una bambola che fosse in grado di esprimersi e mi ricordo quel giorno ero al supermercato che aprivo tutte le scatole di bambole e allargavo le gambe per capire più o meno quale poteva essere la bambola adatta. A un certo punto arriva un signore che vede questa signora avvelenata e ho pensato chissà cosa il film si sarà fatto. Fino a che ho trovato lei, lei è la Barbie che fa yoga, in questo caso, perdonate, mi è caduta la madonnina mai sia, in questo caso è una Barbie che, voglio dire, ha proprio perché fa yoga e quindi è un invito anche, come dire, a dilettarvi nello yoga, guardate che apertura meravigliosa, no? Questa è veramente un anassiro, ma è un gesto sacro, un'esposizione genitali. In questo caso, peraltro, è la bambola MILF, nel senso che è una bambola un pochino più piena, un pochino più grande, perché il messaggio è che anche le mamme e le nonne possono squirtare. Tutti possono farlo? Tutte possono farlo e non è qualcosa che appartiene, diciamo, solamente a una fascia d'età giovanile. Tutti possono farlo? Tutte le donne possono squirtare, tutte, tutte. Nessuno dirà mai questa cosa, la dico solo io e a ragion veduta. È semplicemente un problema di informazione. Si squirta con la testa, non con la figa. Nel momento in cui passa l'informazione qui, l'informazione passa sotto. Se non ci si informa, difficilmente si riuscirà a squirtare. E quindi in questo caso ho preso la mia bella MILF, sono andata in farmacia. La farmacia era piena di vecchietti, perché non stanno più nei cantieri, adesso stanno nelle farmacie. E a un certo punto sono entrato e ho detto, guardate, io devo farla squirtare. Tutti i vecchietti sono informati, cosa deve fare la signora, questa bella signora mora. E anche sono iniziati tutti i suggerimenti dei vecchietti per capire come farla squirtare. E a un certo punto un vecchietto fa, la farfalla, ho detto sì, deve squirtare la farfalla. Faceva, no, la farfalla. E ho fatto, madonna, la farfalla nella farfalla, una meta farfalla. Ho trovato questa cosa simbolicamente bellissima. In realtà lui parlava della farfallina, che era questo ago che si mette sulle flebbo e che se inserito, dove doveva essere inserito, avrebbe consentito attraverso una prodigiosa siringa di ottenere questo effetto. Beh, è un bell'effetto. È un bell'effetto, doveva schizzare molto più lontano, però è uscito sotto forma di gushing, speriamo di non aver fatto danni. Cos'è il gushing? Il gushing è la prima manifestazione dello squirting. Lo squirting inizialmente è lì l'origine anche della confusione. Le donne vedono il porno, gli uomini vedono il porno, perché l'unico canale di istruzione, di apostrofo istruzione, è il porno. Per cui mi convinco che se non ho un c***o di geyser in mezzo alle gambe, non squirto. In realtà non è così. La prima manifestazione di squirting si chiama gushing ed è un liquido colante che fuoriesce, di cui la donna non si accorge. Se ne accorge perché alzandosi trova delle piccole macchiette. Quello è già squirting, ma normalmente la donna tende a confonderlo con Oddio, mi sono bagnata tanto. No, perché il bagnarsi precede la penetrazione. Questo liquido invece può fuoriuscire prima, dopo, durante la penetrazione. Non segue l'orgasmo. E quindi quello già è una manifestazione di squirting, solo che non viene considerato. Poi ci sono le manifestazioni più importanti, ma l'inizio è il gushing. Un po', io dico sempre, no, pensiamo un po' ai proverbi. Certi proverbi dovrebbero farci riflettere. Sposa bagnata, sposa fortunata. Ma che c***o ho mai voluto dire? No. Ecco, cerchiamo di ragionare sulle cose. Stiamo, mi stai ribaltando. Adesso sto guardando il mondo in modo differente. Beh, tieni conto che c'è anche un problema di come viene usato il linguaggio, no? Tu pensa ad esempio a certi usi del linguaggio. Alla donna veniva detto non darla via. All'uomo non veniva mai detto non darlo via. Alla donna veniva detta manteniti intatta fino al matrimonio. Questa cosa non veniva detta all'uomo. I termini per definire il pene sono tantissimi, soprattutto nei bimbi. Della vagina non si parla. No. Farfallina, patatina, al limite. Però si tace. Mentre il bambino viene incoraggiato anche nella scoperta della propria sessualità, si è quasi orgogliosi, no? I maschietti tra di loro anche, come dire, fanno i campionati, no? Certo. Della vagina si tace, la donna scopre la vagina nel momento delle mestruazioni che vengono vissute peraltro malissimo. Quindi c'è tutto un discorso anche legato al linguaggio, all'approccio che si ha rispetto ai propri organi genitali che andrebbe proprio ridisegnato. Quindi ridisegnate le vostre vagine fondamentalmente. Beh, un bel messaggio. Ci piace. Mi dicevi appunto che come sono nate queste bambole in modo particolare, diciamo, con questa esigenza particolare di farlo vedere soprattutto alle donne più adulte. Secondo me però anche nella fascia giovane serve tanta educazione. Sicuramente il problema è che i ragazzi sono, le ragazze sono lasciate sole. Nel senso non c'è una vera educazione sessuale. Quella che viene fornita secondo me è assolutamente insufficiente da persone che non sono in grado neanche di entrare in dialogo. Non si può affidare ai genitori perché non è la stessa cosa. Deve essere un terzo o una terza, occuparsene. E quindi il libretto di istruzioni per la sessualità diventa il mondo del porno. Se uno va a vedere un porno, l'immagine che viene veicolata della sessualità è tecnica, è performance, velocità, tutte cose che non c'entrano niente col piacere. Quindi in realtà io mi faccio un'idea del piacere e la leggo a determinati contesti. Anche la donna nel porno non è mai soggetto di piacere, è quasi sempre oggetto. Quindi anche la donna si fa un'idea, un esempio. Molto spesso ai laboratori informativi che organizzano arrivano delle donne. Quando io chiedo a loro, ditemi qual è il vostro desiderio erotico più forte, la maggior parte delle donne mi dice, ah beh, farlo con due donne e un uomo. Io ogni volta dico, ma cazzo, ma io sono pazza perché io lo vorrei fare con dieci uomini, proprio queste gangbang infinite, ma possibile. In realtà molto spesso le donne desiderano quello che desidera l'uomo. Cioè proiettano sul… Il loro desiderio su quello del partner. Esatto, non reale. Perché sono talmente confuse anche su quello che loro desiderano e su quello che è giusto per loro, che c'è molta confusione perché c'è pochissima informazione. E quindi c'è bisogno di un'educazione, che sia un'educazione innanzitutto corporale, fisica, pratica e poi informativa. Perché bisogna imparare prima a sentire e poi sulla base di quello che sento poi a conoscere. E invece non c'è nell'uno o nell'altro in realtà. Se tu potessi essere regista per un giorno su un set pornografico, come lo gestiresti, come la registreresti, il porno che trama gli daresti? Beh sicuramente sarebbero racconti assolutamente al femminile, legati al modo in cui gode la donna, al modo e al piacere della donna che è abbastanza diverso. La donna gode in mille maniere diverse. Io molto spesso dico attenzione allo squirting perché si sta creando un po' il fenomeno opposto. La donna ritiene che se non squirta non è abbastanza calda. Prima ci vergognavamo dello squirting, adesso lo vogliamo a tutti i costi. Strollare. Non si può declinare il femminile a pochi o più ml di acqua, cioè non essere squirto. La donna ha tantissimi modi di godere, sarebbe bello farli vedere tutti. La donna è in grado di godere anche semplicemente quando si parla. Ovviamente non prendimi il caffè, anche no, ecco, ecco, capitolo uomini, imparate a parlare a letto. Perché quando gli uomini parlano a letto sei bella, sei bellissima. Basta. P***na. Ah, è vero, è vero. Ecco, ci sono tante cose, ma anche le donne, no, anche banalmente, semplicemente descrivere quello che si sta facendo o descrivere quello che si vede, no, usare un po' di fantasia. Si è tanto fantasiosi in tutti gli altri campi quando si parla di sesso, Gesù mio, bocche cucite, vagine cucite, no. Quindi c'è quell'imbarazzo, quella vergogna, mentre invece sarebbe bellissimo aprire le bocche, aprire la vagina, aprire tutti gli orifizi e parlarsi. Perché anche quello entra moltissimo nel come si vive la sessualità. Sì, assolutamente. Infatti dicevamo il dialogo, parlavamo anche in altre interviste tanto di consenso. C'è una sorta di consenso quando si parla di squirt e come si affronta? Diciamo che il limite è sempre l'ascolto del piacere della partner o del partner in tutti i campi. Perché questo discorso del consenso vale sia per gli uomini che per le donne. Perché c'è un discorso che è troppo spostato verso il femminile. Tanti uomini in questo momento sono in un grande stato di sofferenza. Si parla molto di patriarcato e secondo me non ha ragione perché anche gli uomini sono in grande difficoltà, probabilmente più delle donne. E sono molto confusi perché è confuso il messaggio che arriva a loro. Allora bisogna essere sempre estremamente chiari. Innanzitutto divertirsi, avere una dimensione sempre giocosa e non così caustica, pesante sul vivere la sessualità. Tutto quello che è legato al piacere va bene. Io insegno yoga. Nello yoga si dice sempre che bisogna rispettare e ascoltare i limiti del corpo. Se il corpo dice no e no, molto spesso le donne tendono a confondersi rispetto allo squirting. Perché quando una donna squirta la sensazione è anche un po' di dolore, di perdita. È un po' ai confini. Io la descrivevo sempre come quando si andava sull'altalena e a un certo punto ti veniva quel male alla pancia. Però tu di quel male ne volevi ancora. Perché proprio ai confini. E allora non bisogna mai andare oltre i confini, fermarsi quando la persona comincia a non stare più nel piacere. E allora lì bisogna semplicemente fermarsi e fare altro. Ci sono tante cose divertenti da fare a parte lo squirting. Assolutamente. Esatto. Quindi esercitatevi però sempre rispettosi dei limiti da entrambe le parti. Questo vale sia per gli uomini che per le donne. Ora io andrei con un altro gadget. Allora possiamo prendere. Ah quello mi devo spostare. Cos'è? Quello è. No. Esatto. Riesci? Allora questo è un regalo di un mio amico. Io tra le varie perversioni che ho sono la zampogna. Ok. La zampogna è uno strumento straordinario che ha molto a che fare anche con questo discorso. Perché è uno strumento di cui per decenni ci si è vergognati. Esattamente come ci si vergogna della vagina, come ci si vergogna dello squirting. Invece è necessario riprendersi l'orgoglio di determinate cose, squirting compreso. E a un certo punto lui, chi costruisce le zampogne ovviamente, lavora in legno. L'8 dicembre se ne arriva con questo oggetto costruito da lui. Io ho detto madonna meraviglioso. Di default non sapevo che cazzo era. A un certo punto dico Alfonso cos'è? E lui mi fa serve per fare i biscotti. Ho fatto io wow. Ok. Però ancora non capivo. Non si verano ancora non. Ok lui lo apre e mi dice tu stendi la farina, la lavori. Dopodiché usi questo per creare le forme. Non contento fa. E dopodiché usi questo. Questo qui anticamente era uno stampo per fare il pane. Prima c'era una cosa molto più bella della condivisione su Facebook. Si condividevano i forni perché non c'era tanta legna. Si usavano i forni comune che avevano la forma di utero. Tra l'altro i miei figli hanno ragione quando dicono che vi dovalgine dappertutto. E tutto il quartiere infornava il pane insieme perché si cuoceva una volta a settimana una volta al mese. Per distinguere un pane dall'altro si marchiava con un timbro il proprio pane. Lui aveva disegnato questo per me. È una migdala. La migdala è la mandorla. La mandorla rappresenta l'organo genitale femminile. A questo punto la suggestione guardate le immagini sacre. Sono quasi sempre contenute all'interno di una migdala, di una mandorla. E da questa migdala partivano due spruzzi. E mi disse questo è per i tuoi biscotti. Tu li fai, li marchi. A quel punto una mia amica cuoca mi disse e ci metti anche l'ingrediente segreto. E da lì sono nati questi. Cosa sono questi? Questi sono i biscotti allo squirting con appunto l'ingrediente segreto. Peraltro ho anche scritto l'amulino bianco perché volevo che accanto ai ritornelli ci fossero gli squirtarelli. Meravigliosi. Che trovavo una cosa straordinaria. Non mi hanno proprio calcolato. Mannaggia. Con le forme più svariate. Qui ce n'è uno timbrato appunto dal timbro di Alfonso che ringrazio sempre. Qui ce n'è uno molto più esaustivo che potete usare anche eventualmente come anello se non vi piace come biscotto. E qui uno che ha una forma che in qualche maniera riguarda e ricorda la vagina ma se uno le mette vicino le forme sono pressoché indistinguibili. Altra suggestione. Qui dentro veniva messa dell'acqua fate voi che acqua. Esatto. Molto simile alla madonnina. Esatto. Ne può usufruire. Peraltro ricordo le doti altamente afrodisiache dei biscotti allo squirting. C'è una afrodisiache che qualcuno ne vuole? Se volete assaggiare eh? Dai su. Fate i timidi. Eh vieni vieni. Poi ci fai sapere. Soprattutto tua moglie, la tua compagna, la tua fidanzata o il tuo fidanzato ci farà sapere come è andata questa serata. No adesso te lo mangi. Poi ci fai sapere. Lo vedi? Lo vedi la differenza tra l'uomo e la donna? Lo sperma te lo devi vogliare. Lo sperma per forza. Adesso lo guardo fino a che non lo mangio. Ne dimmi siamo. Oppure dica alla tua ragazza che non deve assolutamente ingoiare più il tuo sperma. Esatto mai più. Mai più. Io invece prenderei un altro gadget. Allora qui c'è, queste sono molto interessanti perché queste sono dei ritratti di vagina. L'artista che li fa si chiamava Vanessa Zanzelli, apotropaiche, proprio perché l'idea era che ritrarre la vagina anticamente aveva un valore, come avevamo detto, apotropaico. Cioè sulle case veniva apposta l'immagine della mandorla con lo scopo di proteggere la casa. Allora l'idea mi è nata dal fatto che appunto la donna se non la guarda non la vede. E lì ho iniziato a pensare che sarebbe bello creare appunto dei ritratti. E quindi ho invitato le donne ad aprire le gambe, a fotografare le proprie vagine. Tramite appunto Vanessa hanno cominciato a nascere questi ritratti. Che sono meravigliosi tra l'altro. Questa che vedete è la mia vagina. Qui c'è anche un piercing che lo testimone e che ha anche una sua utilità, scriveremo dopo. Ed è diventata peraltro l'immagine del mio libro. Solo che nel libro voi la vedrete chiusa. Per cui non si capisce che è una vagina. L'idea è che bisogna aprire il libro per vederla. Quindi se apriamo la mente, se apriamo la cultura, se apriamo l'informazione, la vagina si apre, altrimenti rimane chiusa con lo scotch. Esatto. È una metafora assurda. È una di quelle cose che, come appunto dicevamo nella storia, nell'antichità, sono cose che sono state nascoste al giorno d'oggi, ma se le guardi riesci a vedere quello che c'è dietro. Beh ad esempio, pensa a una suggestione. Nei piccoli e grandi misteri leusini, che erano riti iniziatici greci al femminile, venivano esposti i liquidi delle donne. Presumibilmente lo squirting, perché di squirting ne parla Ippocrate, ne parla Galeno, ne parla Pitagora, che era quello dei triangoli, ma in questo caso il triangolo che interessava era un altro. Esatto. E veniva esposto anche il sangue femminile, che veniva considerato un liquido molto potente. Ebbene, duemila anni dopo, esporre il sangue femminile in Sicilia aveva tutt'altro significato. Quindi lo stesso simbolo, a distanza di duemila anni, diventa un'altra cosa. Ha cambiato valenza. Esattamente, esattamente. Se prima era quasi un simbolo di libertà, possiamo dire. Di libertà e di potere, dopodiché diventa qualcosa che dimostra che la donna era vergine e se non era vergine la donna non andava bene. Altra suggestione, ci sono dei paesi in cui invece l'educazione va in senso completamente diverso. Ruanda, 90% delle donne è squirta. Perché? Perché in Ruanda le zie paterne si occupano di insegnare alle donne un massaggio che si chiama cuniazza, o meglio, il massaggio si chiama gocuna per allungare le piccole labbra, una dimensione di questo tipo, per arrivare al cuniazza. Il cuniazza è il modo in cui loro descrivono lo squirting. In questo caso viene loro insegnato da persone più grandi perché si ritiene che la donna che squirta prova più piacere e viene regalato alla coppia un tappeto di foglie di banano che deve essere restituito il giorno dopo bagnato di squirting altrimenti prova che l'uomo non è stato in grado di far godere la donna ed è l'unico caso in cui la donna può ripudiare l'uomo. Quindi da noi le lenzuole appese col sangue, lì il tappeto bagnato di squirting. Paese che vai, usanza che trovi. Il 90% delle donne le squirta. Quindi il potere poi si ribalta se ci pensi qui appunto in Italia, ora spero non si faccia più questa pratica ma appunto in Italia giù il potere passava al maschile cioè la donna in quel caso era oggetto invece si ribalta il potere e va alla donna di scegliere quasi. Di scegliere ma è fondamentalmente un discorso anche di consapevolezza non è un discorso di uomini contro donne io ad esempio non sono assolutamente femminista nel senso considero il femminismo un momento straordinario soprattutto nel libro una prefazione fatta da una femminista storica straordinaria Teresa Rossano il femminismo ha dato veramente tanto ma poi in qualche maniera è caduto il vuoto tutte le conquiste che loro hanno fatto in qualche maniera si sono perdute c'è bisogno di riprendere il discorso che è stato interrotto rispetto a quello che dicevamo prima una suggestione ulteriore del Rwanda qual è? noi basiamo la nostra mitologia religiosa sull'idea di Adamo ed Eva Eva che consegna la mela ad Adamo e che è responsabile della cacciata del paradiso cosa vuol dire? senso di colpa atavico sulla donna la donna qualsiasi cosa fa è colpa al di là se io credo non credo posso essere una panca bestia ma comunque certi simboli funzionano perché dietro di me parla mia nonna parla mia madre in Rwanda il mito si basa su una regina che aveva voglia il re era lontano e allora la regina cosa fa? decide di servirsi di un servo voleva godere il servo tremava perché sapeva che se soddisfava la regina veniva ucciso dal re se non la soddisfava veniva ucciso dalla regina comunque gli andava in c***o esatto comunque esatto non gli andava bene si avvicina col pene tremolante alla vagina della regina che fa anche rima da lì parte uno schizzo maestoso ce l'hanno a base del mito che crea il lago Kivu il più grande lago del Rwanda ma che è anche il più grande lago dell'Africa nella mitologia viene creato da uno spruzzo di squirting noi abbiamo il senso di colpa loro hanno lo squirting grazie che il 90% delle persone lì delle donne squirtano è un discorso culturale la cultura entra nel corpo e la modifica meraviglioso questo discorso la modifica sempre in tema sempre in tema cioè pensare quanto possiamo essere condizionati tantissimo da un'idea della cultura oggi tantissimo io prenderei un altro gadget la prima cosa che possiamo prendere ecco questo è l'ho portato per far vedere questo è stato raccolto in circa tre minuti tre minuti? sì sono circa 250 ml questo per far capire anche quanto squirting la donna è in grado di emettere quanto può squirtare al massimo una donna? personalmente ho squirtato tre litri tre litri? tre litri andiamo a benzina andiamo a chilometro zero ovviamente in un rapporto molto lungo non in tre minuti la scienza dirà fino ad 800 ml perché esiste una ricerca sullo squirting che è arrivata a determinati risultati ma in realtà nel momento in cui una donna squirta la produzione del liquido è infinita tenendo conto che noi siamo fatti per il 70% di acqua quindi la donna accede alle proprie risorse corporee è chiaro che dovrà reidratarsi perché in quel caso c'è una perdita importante di acqua in pochissimo tempo chiaramente parlo di importanti emissioni non nel caso di pochi ml quello non cambia nulla però questo dimostra ancora una volta la potenza del femminile quanto la donna è in grado di esprimersi e quanto questa espressione trova poi una manifestazione concreta e liquida nello squirting che è meraviglioso quindi mi dicevi tutti possono squirtare tutti squirtano allo stesso modo abbiamo parlato solo del gushing giusto esatto esistono altre due modalità una l'avete vista a poc'anzi ho devastato abbiamo fatto finta di nulla ma ho devastato questo tavolo mi hanno guardato con mille raccomandazioni prima ho evitato di squirtare verso di lei quindi per educazione ho squirtato verso gli uomini mi sembrava proprio una benedizione esatto li abbiamo benedetti li abbiamo benedetti battezzati allora esiste un'altra modalità di squirting che si chiama lo spruzzo questa è una statuetta si trova a Karnataka una valle dei templi indiana in cui c'è una divinità squirtante quindi è un piccolo oggetto di forma conica in cui esce una grossa quantità di acqua ed è talmente forte la contrazione della donna che la donna è in grado in quel momento di espellere qualsiasi cosa abbia in vagina parlo di un dildo parlo di una mano parlo di un pene parlo di una banana fate voi quindi è una contrazione molto forte ma la portata è piccola è uno schizzo di forma conica poi esiste la manifestazione invece più importante di squirting che è lo schizzo in questo caso diciamo che lo schizzo può arrivare anche a un metro e mezzo due di distanza quindi io dico sempre attenzione personalmente ho bruciato un computer nel tentativo di capire quello che succedeva e sì perché dovevo capire le distanze le distanze sono importanti sono importanti le distanze sono importanti quindi certe volte abbiamo bisogno di prendere distanza anche lo squirt è importante esattamente e in quel caso avevo messo un computer dall'altra parte del letto per firmare quello che accadeva sotto e a un certo punto mentre ero partita con l'immaginazione appunto sempre di queste gangbang enormi è partito questo schizzo che va a cadere proprio sulla tastiera del computer dato che nello squirting sono presenti zuccheri fruttosio e glucosio mi sono praticamente giocata il computer il computer è bruciato per cui quando fate gli esperimenti proteggete appunto come in questo caso non ci è arrivato però telecamere videocamere quant'altro perché lo squirting insomma è una cosa importante una volta ho provato anche a innaffiare una pianta perché avevo visto un film meraviglioso Acque tiepidi sotto un ponte rosso il titolo fa un po' cagare però è un film coreano in cui c'è questa donna che è squirta meravigliosa e a un certo punto sotto di lei germogliano foreste praticamente per cui mi ero fatta tutto questo film dico io adesso ci innaffi una pianta l'amazzonia bruciata esattamente come il computer miseria mannaggia attenzione insomma a quello che fate e soprattutto a come l'ho usato però i biscotti non bruciano esatto come può lui è vivo è vivo stasera ci saprà dire la sua ragazza come è andata la serata come ha gioito di questa cosa tu hai anche scritto un libro sempre riguardo allo squirting dimmi di più questo libro è nato proprio dal bisogno di condensare questi laboratori informativi e dare loro una forma scritta per rendere l'informazione accessibile a tutti poi ho scoperto che non è così perché appunto il libro difficilmente verrà ospitato nelle librerie e un'editrice coraggiosa l'avventura edizioni proprio perché nessuno voleva pubblicarlo io stavo andando verso un'autopubblicazione che per uno scrittore una scrittrice non è proprio granché anche perché una delle case editrici più importanti che me l'aveva opzionato quando l'ha letto ha detto ma ora noi abbiamo difficoltà a distribuire un libro che spiega le mestruazioni ai bambini alle bambine figurati se usciamo con un testo sullo squirting cioè si fa ma non si dice non bisogna parlare di certi argomenti o bisogna parlarne relegandole a determinate nicchie pensa semplicemente il nome squirting a me mi fa ricordare i topi lo squirtio dei topi ora parliamo di tope ma magari un nome più gentile visto che in altre culture ha tutt'altro nome si chiama succo dell'amore si chiama tormenta d'acqua d'amore si chiama sacred water acqua sacra non si chiama squirting e in quel caso quindi è nato questo libro che era squirting un discorso sull'acqua che racconta un po' tutto quello che è stato il mio cammino diciamo navigare in queste acque ma lo racconta anche da un punto di vista scientifico perché io sono studiata ma non solo io anche altre donne da una ricerca che fa capo al professore Emanuele Iannini dell'università Torvergata di Roma quindi esiste anche una parte scientifica che racconta scientificamente che cos'è questo liquido e quant'è importante parlarne perché è importante parlarne sia per un discorso di consapevolezza ma dire che la donna ha squirta vuol dire che la donna ha la prostata ufficiosamente la medicina lo dice ma non ufficialmente la prostata è un organo che dopo i 40 sviluppa tumori gli uomini lo controllano le donne no perché non viene detto alle donne che ce l'hanno e quindi magari dei tumori a specifici all'apparato genitorinario potevano essere evitati dopo i 40 attraverso delle analisi per questo è importante parlare di squirting una volta sui muri di Garbatella vedi una scritta bellissima squirting una rivoluzione femminista perché è un discorso rivoluzionario il mio il medico insomma che si occupa di me dice che io sono un attivista dell'ejaculazione femminile io mi pregio diciamo di questo squirting pride perché secondo me bisogna assolutamente parlarne all'interno del testo peraltro ci sono 400 nomi che sono usciti dai laboratori ho chiesto a tutte le donne agli uomini che venivano ai laboratori di darmi un nome diverso che fosse italiano i ricercatori mi hanno detto che alla fine verrà scelto un nome all'interno di questi 400 per dare appunto una valenza è un valore diverso a questo termine peraltro c'è anche la prefazione di Giuseppe Cruciani che è stato uno dei primi a voler esattamente oltre ad esserselo bevuto con grandissima soddisfazione mia e incitazione rispetto a chi neanche si vuole mangiare biscotti piccolo inciso ed è stato il primo ad ospitarmi proprio perché voleva che in qualche maniera si parlasse anche in maniera diversa di questo argomento giocando ma dicendo anche cose estremamente serie dicevi che c'è una ricerca alla base di questo mi immagino non ci sia molto allora esiste questa ricerca che tra l'altro è a Firenze ci sono due dottoresse meravigliose all'ospedale Careggi che attendono i vostri campioni perché le donne difficilmente daranno i campioni perché hanno molta vergogna anche molta paura ma soprattutto non sanno come raccoglierlo lo squirting perché lo squirting esce e non è che te lo comunica io inizialmente ad esempio quando facevo la raccolta mi mettevo sopra una bacinella ora immaginate voi masturbarvi e cercare di godere quando si è sopra quando sai di essere sopra una bacinella esatto però io vengo da un'esperienza che è quella di aver fatto la mamma a tempo pieno alla casalinga per dieci anni quindi ho ottimizzato questa esperienza un giorno ho visto e ho guardato la teglia della pizza la teglia della pizza ha guardato me e lì ho capito lì è nata proprio io ho queste divinazioni ho capito che se io mettevo la teglia della pizza abbastanza grande perché i miei glutei sono piuttosto grandi sul tavolo e mi mettevo all'interno della teglia della pizza tutto quello che fuoriusciva diciamo come gushing rimaneva all'interno della teglia e poi con un imbutino da ferro da stiro guardate come sono precisa meraviglioso veniva messo nelle provette le provette venivano messe in frigo infatti io tra le croccole i bastoncini ho anche le provette di scritti immaginate i miei figli avranno dei problemi probabilmente quando me ne rendo conto e questo basta per raccogliere diciamo queste queste provette che servono alle dottoresse per dimostrare che appunto si tratta di un liquido diverso dall'urina quindi l'invito è a contattarmi per contattare poi le dottoresse peraltro questa ricerca nel 2019 è stata dichiarata immorale dal comitato etico dei medici perché ritenevano che questa ricerca potesse essere finanziata solo in parte non ad esempio le analisi più importanti perché è immorale quando i dottori hanno chiesto conto della immoralità hanno detto che per ottenere i campioni bisogna provocare un orgasmo e nel 2019 l'orgasmo femminile è immorale immorale l'erezione femminile la ricerca sull'erezione femminile che provoca uno stato di piacere quella è perfettamente morale e ampiamente finanziata quindi sulle donne ancora c'è un problema di moralità e il sesso con la morale non c'entra una beata figa è un beato cazzo esatto parlavamo anche di pornografia prima c'è un rapporto fra la pornografia e lo squirt c'è tanta rappresentazione tantissime rappresentazioni diciamo che la pornografia ha avuto un grande merito quello di sdoganare lo squirting perché fino al 1970 di squirting non si sapeva nulla di squirting si parla fino al 1800 nei testi esistono ne parla De Graf ne parla Grafenberg ne parla Alexander Schene ma nel 1800 che succede un signore che si chiama Lazzaro Spallanzani non squirterò di nuovo con una cagna ingravida con una perdonatemi con una siringa ingravida una cagna cosa voleva dire questo voleva dimostrare che la donna non aveva bisogno di godere per riprodursi perché fino ad allora il piacere la clitoride lo squirting venivano studiati perché si riteneva che la donna che godeva di più procreava di più quando si scopre che bastava una siringa tutti gli studi sul piacere decadono dal 1800 non esistono più studi sulla clitoride di squirting non se ne parla più 200 anni di silenzio è chiaro che le donne l'hanno dimenticato nel 1970 ne ricomincia a parlare il porno la particolarità però qual è che nel porno le donne non squirtano ma non lo dico io lo ha detto Rocco Sifredi esiste un'intervista su youtube a 10 giorni dalla mia intervista lui rilascia appunto una dichiarazione dicendo che il porno ha inventato lo squirting per bypassare il pissing cioè la pratica di urinare addosso era censurata per cui lo dovevano recitare con gli slip il porno inventa lo squirting per togliere gli slip e crea quella confusione enorme di vedere questi geyser improbabili e dire ok io non squirto se si squirta così non si squirta in questa maniera ma questa cosa la dice anche una attrice straordinaria come Valentina Nappi ma perché lo squirting è legato al piacere se una donna gode squirta ora immaginatevi voi in un contesto come questo in un set pornografico dove c'è il Chuck il regista i cameraman insomma provare piacere o sei Mona Pozzi o sei Maura Gigliotti o difficilmente godi in una situazione come questa quindi quello che c'è nel porno non fa testo l'unica donna che squirta nel porno è Danica Mori ma perché perché lo fa col suo compagno e quindi lei effettivamente gode e questo consente di arrivare allo squirting infatti sono dell'idea che piattaforme amatoriali come possono essere Nablu come tante altre secondo me hanno sdoganato anche un po' quello che è l'amore e anche il sesso più naturale esattamente infatti si riscopre tanto secondo me nel privato lo squirting anche attraverso diciamo video un pochino più amatoriali assolutamente sì perché sono veri sono sinceri lì c'è una ricerca del piacere che nel mondo del porno non c'è esatto esatto io ho sperimentato anche personalmente lo squirting ma l'ho sempre legato anche alla cistise perché c'è un problema ma non lo dico io nel secondo secolo ora non parto con lo spiegone ma nel secondo secolo dopo Cristo un signore che si chiamava Galeno l'inventore della medicina galenica a un certo punto dirà la donna che non emette il seme può andare incontro a dolore io soffrivo di cistiti ricorrenti avevo tantissimi episodi di cistiti e la cistita che viene chiamata del viaggio di nozzo della luna di miele una cistita che arriva alle donne in concomitanza con situazioni che avevano a che fare con la sessualità sì a un certo punto quando ho cominciato a squirtare la cistita è miracolosamente scomparsa ovviamente mi è successa la stessa cosa esattamente sono andata dai ricercatori e ho detto ok questa cosa la dico io ma se io vado duemila anni dietro Galeno dice la stessa cosa dice che la donna che non emette il seme può andare incontro a dolore in più ricordatevi il discorso che ho fatto prima questo è un puzzle se io brucio una pianta e brucio un computer questo liquido se non viene emesso qualcosa farà perché è ricco di zuccheri quindi probabilmente fermenta e crea proprio il terreno per un'infezione quindi la cistita può essere il segnale quella cistita non spiegabile di uno squirting che non trova diciamo la via d'uscita quindi aprite l'estero igiene fate uscire lo squirting e mi passerà la cistita perché si collega cioè perché anche forse scientificamente se mi sai rispondere si collega al bisogno al bisogno di urinare allora è molto interessante questo perché proprio il fatto che la donna sente il bisogno di urinare in quei casi fa sì che la donna fermi il rapporto oppure chiuda tutto e molto spesso ha sviluppato un automatismo non si rende neanche conto che sta chiudendo questo perché la ghiandola deputata all'emissione dello squirting presumibilmente questa prostata femminile di cui si ignora l'esistenza è una ghiandola simile a quella maschile ma più piccolina che è allocata proprio e adiacente alla vescica i dotti di questa ghiandola finiscono in vescica dalla vescica all'uretra quindi lo squirting viene attraverso questi dotti espulso esattamente come per l'uomo la prostata in una situazione di piacere aumenta la dimensione questo cosa vuol dire che essendo adiacente alla vescica aumentando il volume aumenta la pressione quindi preme di più sulla vescica in generando la falsa convinzione di aver bisogno di urinare se la donna invece capisce che quel segnale per questo è un discorso che parte dalla testa se io capisco che quel segnale non è che ho bisogno di urinare la mia prostata che sta premendo e crea quella falsa convinzione e lascio andare tutto quello che esce non sarà sicuramente urina ma c'è un ulteriore elemento negli uomini esiste una valvola che impedisce la fuoriuscita contemporanea di sperma o di urina siamo fatti nella stessa maniera è possibile che questa ghiandola sia presente anche nella donna ma non c'è ricerca quindi è una suggestione personale probabilmente anche nella donna è impossibile la fuoriuscita contemporanea infatti una donna che squirta dopo avrà bisogno di andare al bagno e continuare attenzione però nello squirting entra anche la paura della donna di sporcare sempre perché ti dicevo non siamo noi a parlare ma sono le nostre madri le nostre nonne la donna per natura è abituata a pulire Diana J. Torres una porno terrorista spagnola in un libro straordinario che si chiama Fica Potens dirà noi donne siamo abituate a pulire non a rilasciare pozzanghere nei letti non lo dice proprio così lo dice in maniera un pochino più cattiva ma ve la risparmio sostanzialmente quindi la paura il timore di sporcare entra nella produzione dello squirting sarà sufficiente dotarsi di una traversa esattamente quella che vendono per gli incontinenti o per gli animaletti mettersela sotto i glutei e la donna sarà tranquilla tutto quello che fuoriesce rimarrà all'interno della traversa perché questa cosa gioca un ruolo fondamentale mi hanno detto molto spesso ah non è poetico perché mettersi un preservativo è poetico insomma voglio dire si può giocare con gli oggetti recuperiamo quella dimensione del gioco e cerchiamo tutte di squirtare perché è una cosa che ci riguarda tutte tutte ma qualcuno non lo sa fare come esistono delle tecniche per farlo? allora la prima tecnica è ascoltarsi e capire qual è il proprio piacere esiste una tecnica anche se io sono molto diffidente perché essendo lo squirting legato al piacere ogni donna gode in maniera diversa personalmente io squirto anche se mi parlano quindi non ho bisogno neanche di essere toccata ovviamente ripeto non è mi compri un pacchetto di sigarette e ho squirto devi dirmi qualcosa che sia eroticamente sostanzioso però è una cosa legata al piacere esiste una tecnica che viene chiamato il gesto del richiamino è questo gesto ma semplicemente perché il medio andrà a toccare una parte che è presumibilmente questa ghiandola e te ne accorgi perché mentre tutto intorno si muove questa parte non ha movimento toccandola ovviamente con delicatezza e ripetutamente si può arrivare a stimolare lo squirting è molto importante ad esempio bere molto prima bere anche un litro di acqua perché questo rende quella parte più suscettibile vedrete che dopo aver squirtato dovrete andare al bagno di corsa per urinare proprio perché sono due situazioni completamente diverse questo può aiutare ma ancora più può aiutare capire quello che ci piace ascoltarci capire quello che ci fa godere più che cercare disperatamente di trovare una tecnica perché la tecnica per quanto mi riguarda è nemica dello squirting più lo cerco più non arriva anzi non viene non viene giustamente quindi se io dovessi per esempio avere problemi nello squirtare ci sono delle figure di riferimento a cui posso attingere oppure cioè magari dei corsi delle io ottengo dei laboratori informativi online sempre per il discorso che è fondamentale e prioritario all'informazione molte donne mi hanno scritto dicendo che dopo i laboratori informativi dopo aver letto il libro hanno cominciato a riconoscere i segnali e ad avere la possibilità di squirtare ma ancora più importante per quanto mi riguarda almeno per quanto riguarda quello che ho io ho potuto vedere io insegno un massaggio viene chiamato massaggio tantrico ma non c'entra niente nel senso che se cercate e rarerete quello che troverete sul massaggio tantrico ha più a che fare con la prostituzione o con le pippe esotiche il massaggio tantrico purtroppo è una pratica esattamente come lo squirting poco conosciuta è un'educazione corporea all'ascolto in cui sia gli uomini che le donne viene insegnato l'ascolto ma l'ascolto dell'orecchio l'ascolto del dito l'ascolto del ginocchio attraverso l'ascolto corporeo quindi è una pratica assolutamente fisica corporea imparo a conoscere il mio corpo imparo anche quello che mi fa godere questo vale sia per gli uomini che per le donne perché non esiste un'educazione corporea all'ascolto e se noi pensiamo che le emozioni sono legate al corpo un'educazione corporea è anche un'educazione emotiva le emozioni e c'è veramente bisogno proprio alla luce di tutto quello che sta succedendo in Italia di un'educazione tanto per le donne quanto per gli uomini di questo tipo quindi quando mi posso rivolgere a te quando vuoi il primo laboratorio utile vabbè sia sul mio profilo instagram mauramodestagigliotti che sul sito www.mauragigliotti.it trovate il calendario adesso il 2-3 marzo peraltro ho lanciato un laboratorio per giovani perché il massaggio tantrico arriva a persone disperate cioè che abbiano superato i 50 e che ormai siano profondamente disilluse della vita in generale della sessualità secondo me è importante invece abbassare l'età perché consegnare un libretto di istruzioni come questo ai giovani significa aprire uno sguardo sulla sessualità completamente diverso privo di vergogna privo di imbarazzi ma pieno solamente di curiosità il nostro nucleo più antico l'ess si orienta sul principio del piacere il nostro nucleo più antico cerca il piacere ci hanno invece insegnato che il principio che cerchiamo è quello del dolore cerchiamo sempre situazioni che ci facciano star male recuperiamo il principio del piacere il massaggio in questo senso è un grande insegnamento e può essere un buon modo per imparare ad ascoltarsi ed eventualmente per arrivare allo squirting e capire tante cose che ci riguardano perché la nostra energia sessuale è anche la nostra energia vitale se siamo sessualmente attivi se abbiamo una buona sessualità abbiamo una buona vita sono estremamente d'accordo su questo faccio l'ultimissima domanda che rapporto c'è fra diciamo lo squirt e lo yoga perché poi tu pratichi e insegni yoga c'è un rapporto? il rapporto è sempre il principio dell'ascolto nello yoga io sto fermo ed ascolto il mio corpo ascolto come sta il mio piede ascolto come stanno le mie gambe prendo una forma che è una asana nel mio caso io insegno lo yoga rat la mia insegnante è Gabriella Cella che è un nel mondo dello yoga è assolutamente un personaggio straordinario che ha insegnato quanto la forza del simbolo entra nel corpo quindi se io prendo una forma e conosco anche il significato di questa forma il mio corpo esplode quindi una coscienza portata all'interno del corpo e all'ascolto corporeo fa sì che il nostro corpo si espanda quindi assolutamente lo yoga è un modo per avvicinarsi alla conoscenza del corpo e quindi arrivare anche poi a episodi come quelli relativi allo squirting e non solo che io trovo meraviglioso trovo veramente meraviglio tutto questo purtroppo ti devo salutare però ti ringrazio infinitamente per tutta la sapienza che ci hai regalato oggi ringrazio anche Nablu che ci ha dato lo spazio per poterne parlare e niente noi ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao ciao